È presente in tribuna l'Associazione Ugo, unite e gareggiamo ovunque una ONLUS di Padova. Scusate, un momento di attenzione. Senatori, come sapete, ottobre è il mese internazionale per la prevenzione del tumore al seno. Nell'ambito di quello che universalmente viene definito il mese rosa, saranno migliaia in tutto il mondo le iniziative organizzate da istituzioni, associazioni per promuovere e favorire i controlli e per finanziare la ricerca scientifica. Negli ultimi anni è in costante aumento il numero delle pazienti che riescono a sconfiggere la malattia, grazie a diagnosi precoci e accessibili ad una platea sempre più ampia ai progressi delle cure. Nonostante questi grandi progressi non possiamo assolutamente abbassare la guardia. E' quindi fondamentale che ognuno in questa battaglia faccia la sua parte, anche il Senato, perché da questo pomeriggio la facciata di Palazzo Madama sarà illuminata di rosa, così come tanti altri importanti monumenti. Un gesto simbolico attraverso il quale il Senato della Repubblica darà il proprio supporto a tutti coloro che quotidianamente, nella ricerca e nelle cure, sono al fianco dei pazienti per rendere i tumori sempre più curabili.